Avellino-Brescia sarà la prima partita del quinto campionato di Serie B dei Lupi, con un esordio casalingo tra le Muramiche il prossimo 26 agosto. E Avellino-Brescia fu anche la prima partita dello scorso campionato, corsi e ricorsi storici. Subito dopo, prima sfida con un ex contro Attilio Tesser che guida la Cremonese. Poi l'Avellino affronta un'altra neopromossa, ovvero il Foggia, nuova gara a Cesena, in seguito il Venezia di Inzaghi e la trasferta di Novara. L'Empoli invece ritorna al partenio Lombardi il 30 settembre, il Bari a San Nicola la giornata successiva. L'adrenalina però salirà altissima il 14 ottobre alla nona giornata di campionato con il derby contro la Salernitana previsto al partenio Lombardi il 10 marzo e il ritorno. Subito dopo, altra sfida che profuma di storia con il Pescara, in seguito la Provercelli in casa. Alla dodicesima c'è il Parma, il Tardini, poi il Perugia, l'Intella e il Frosinone. Il 25 novembre alla sedicesima il Palermo torna in Irpinia dove farà a Capolino il sabato successivo anche il Carpi. Le ultime giornate vedono invece la squadra di Novellino impegnata a Cittadella e con l'Ascoli. Il 24 dicembre c'è Spezzi Avellino e il 31 dicembre Avellino-Ternana. Sono molto contento, ha commentato così Walter Novellino, di cominciare davanti ai nostri tifosi e di incontrare un vecchio amico come Boscaia. Subito dopo c'è la trasferta di Cremona che è un gruppo di qualità ma noi non abbiamo paura e vogliamo vincerle tutte o almeno provarci. Il derby con la Salernitana, continua Novellino, arriva in un momento buono quando saremo già più rodatti. L'Empoli e il Palermo in casa, ripeto, conclude il tecnico, conta poco. Il calendario è positivo ma dipenderà tutto da noi, i ragazzi sono cadi che hanno voglia di dimostrare che possono essere l'outsider di questa stagione. Il presidente Taccone ricorda che lo scorso campionato l'Avellino affrontò proprio il Brescia. La passata stagione, dice il presidente, pareggiamo immediatamente, meritavamo di più da quella gara. Questa volta cercheremo di rifarci, iniziando col piede giusto, cercando di ottenere subito il massimo. Secondo Taccone lo snodo cruciale sarà tra la sedicesima e la diciassettesima giornata. Ci sarà un doppio confronto, dice Taccone, interno nel girone di andata contro Palermo e Carpi, due grandi squadre. Speriamo di fare del nostro meglio e di far valere le nostre qualità sin dall'inizio in un torneo senza dubbio molto equilibrato e impegnativo. In cui non esistono partite abbordabili. E dunque il campionato è alle porte, il conto alla rovescia è cominciato, ma prima c'è il Matera e la prima gara ufficiale di questa nuova stagione.